No Spero di che esiste la voce Tony, 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 Tony E dopo la battaglia La bottiglia La stagione No, 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 no Si, la stagione prima E dice, spasito Spasito, no, no, no Ok C'è il cin cin, Tony Ma possiamo dire Saluta Apstera D D E Nonassa è fatto, l'è, l'otto Aptera D Vieni! Vieni!